Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, anzi benvenuti in questa nuova rubrica denominata nient'altro che MAX, una rubrica che abbiamo già lanciato precedentemente sulla nostra pagina Facebook e che ora portiamo anche qui sul nostro canale YouTube. Cosa tratta sostanzialmente questa rubrica? Beh, noi vi andremo in ogni video a proporre 5 opportunità, 5 potenziali acquisti, convenienti acquisti che potete fare su eBay, ovviamente che riguardano MAX, gli 883 in generale, quindi sia a livello di CD che vinili, gadget e così via. Vi ricordiamo inoltre che tutti gli oggetti, che ovviamente ci diremo in ogni video, li potete trovare in descrizione, quindi il link di tutti i beni di eBay li potete trovare in descrizione nella speranza che siano ancora disponibili. Noi cercheremo sempre di realizzare ogni video di nient'altro che MAX, magari il giorno prima della pubblicazione o addirittura il giorno stesso, in modo tale che il materiale che citiamo nel video poi è sostanzialmente disponibile. Comunque, diciamo, in linea generale vi invitiamo a sbrigarvi, ad andare a vedere il CD, il vinile in questione, per esempio, perché appunto potrebbe essere acquistato da qualcun altro visto che sono, appunto, ripeto, secondo noi delle buone opportunità, soprattutto per chi colleziona il mondo, diciamo, dell'oggettistica riguardante MAX. Concludiamo queste informazioni tecniche dicendovi che, appunto, nient'altro che MAX avrà una cadenza di circa un mese, diciamo, cercheranno di proporre almeno questo video una volta al mese qui su YouTube, poi magari ci potrebbero essere altre volte che ne usciranno per esempio due video, magari uno ogni due mesi per dire. Dipende ovviamente dall'oggettistica che viene commercializzata, diciamo, su eBay. Ed infine la top 5 che vi andremo a proporre in ogni video secondo un ordine, diciamo, convenzionale, non in base all'oggetto più conveniente, diciamo, tutto qui. Finita questa breve introduzione, passiamo al succo, diciamo, di questo video. Partiamo quindi con la nostra top 5. Il primo oggetto che vi andiamo a proporre è uno stock di CD promo di Max Pezzalis barra 883. Questo stock contiene 9 CD e sono... vi leggo un attimo. La lunga è stata caldissima, mezzo pieno, mezzo vuoto. Il mondo insieme a te, la, diciamo, versione quella un po' più rara. Fai come ti pare l'altra versione, quella più comune del mondo insieme a te. Eccoti, lo strano percorso. Sei fantastica e torno subito. In totale viene compreso dell'espedizione. 60€ per questi 9 CD promo che, facendo, diciamo, un piccolo calcolo viene all'incirca 6,60€ per ogni CD. Quindi, da questo punto di vista, secondo noi, conviene abbastanza. Soprattutto per alcuni CD. Anche perché, in generale, almeno su internet, è difficile acquistare un CD singolo per 6€. Anche perché questi sono pure nuovi, quindi è un, diciamo, un oggetto da prendere in considerazione. Soprattutto, ovviamente, per chi colleziona Max Pezzali. Per chi non lo sapesse, i CD promo sono dei CD che venivano realizzati proprio per le radio, per promuovere, appunto, un singolo. Quindi, in questo caso, Eccoti, il mondo insieme a te, per esempio. E sono diversi dei CD singoli, che sono i classici CD che si potevano acquistare, diciamo, nei negozi. E magari, oltre alla canzone, potevano contenere, come per quanto riguarda Max, Remix, o altre canzoni. Quindi, diciamo, era una piccola differenza che volevamo sottolineare. Come secondo oggetto, vi andiamo a segnalare la versione di Hanno ucciso un moragno sigillata dell'iniziativa di qualche tempo fa che veniva commercializzata nell'edicole. Quella piccola, diciamo, con lana, che racchiudeva un po' la carriera a livello di discografia, ovviamente, del nostro Max. E' particolarmente conveniente questo, diciamo, questo bene, sia perché ovviamente è ancora nuovo sigillato, ha un prezzo compreso di spedizione molto basso, in più si può fare la proposta al venditore per abbassare ulteriormente il prezzo finale del CD stesso. Come terzo oggetto di questa top 5, inseriamo la versione vinile dell'EP di Remix 94. L'abbiamo voluto inserire sia perché, al momento, è l'unico su eBay. Inoltre, questo vinile, tra tutti quelli di Max, è uno dei più rari e sostanzialmente ha un buon prezzo, ha un prezzo onesto, proporzionato appunto alla rarità. Inoltre, come per il bene precedente, anche qui c'è la proposta d'acquisto, quindi si potrebbe ulteriormente abbassare il prezzo finale di Remix 94. L'altro oggetto di questa top 5 riguarda dei diari e quaderni degli 883. Perché li abbiamo inseriti tutti quanti in un unico punto? Beh, semplicemente perché sono tutti dello stesso venditore. Quindi potrete sostanzialmente risparmiare sulle spedizioni attraverso un'unica transazione economica. Hanno un buon prezzo e quindi l'abbiamo voluto inserire per questa, diciamo, prima puntata di Nient'altro che Max. Per concludere questa top 5 abbiamo inserito uno stock di musica 7, le quali sono 6 e sono grazie mille, Love Life 1 in più, La Dura Legge del Goal, La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo e Norse Dove Stesto. Sono tutte ovviamente le prime edizioni, come potete vedere dall'immagine. È uno stock anche qui abbastanza conveniente perché facendo un brevissimo calcolo viene praticamente all'incirca 5 euro per ogni musica 7. Quindi vi consigliamo, ecco, di acquistare, se volete, diciamo, iniziare anche magari a collezionare le musica 7 riguardante Max Pezzati e gli 8.3. La top 5 di Nient'altro che Max finisce qui, ma a questa vogliamo aggiungere un bonus. Il bonus di questa rubrica riguarda un oggetto che non necessariamente è presente su eBay come in questo caso, diciamo, ma potrebbe essere acquistato su altri e-commerce come Amazon. Oggi vogliamo parlare del libro di Marco Iurato, L'amore ai tempi degli 883, un libro disponibile sia in formato Kindle e in formato, diciamo, cartaceo, al quale andremo a dedicare prossimamente un video per intero. Il video finisce qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Cercheremo di migliorarci, di migliorare questa rubrica attraverso ovviamente il vostro feedback, quindi, diciamo, fateci sapere cosa ne pensate. Vi invitiamo a seguirci su tutti i nostri social, attivate la campanella del nostro canale per rimanere sempre aggiornati su nuovi video e ci vediamo un prossimo video. Ciao ciao!